Quando abbiamo avviato già un paio di anni... Grandi nomi per grandi spettacoli, ce n'è per tutti i gusti. È stata presentata a Nocearo Inferiore la nuova stagione del Teatro Comunale di Ana, un cartellone variegato con musica, danza, teatro, reso possibile grazie al contributo di diverse associazioni del territorio. Il Teatro Comunale di Ana si conferma tra le iniziative culturali più importanti della nostra città, del nostro comune. Si conferma attrattore di tantissime iniziative culturali che ci sono state nel corso di questo triennio di amministrazione. Abbiamo aderito al circuito del Teatro Pubblico Campano, rendendolo epicentro di una serie di manifestazioni. Oggi abbiamo una rassegna che vede, così al pari dell'anno scorso e anche di due anni fa, protagonisti della scena nazionale del teatro, ci sarà Tony Servillo, Leo Gullotta, Stefano Accorsi, altri nomi prestigiosissimi che danno lustro al comune di Nocearo e al Teatro Comunale. Lo inseriamo a fianco anche di altre manifestazioni molto importanti, come quelle tenute da Arte Nauta e di Simona Tortore, anche quelle di Luc Bui per la danza con Dance Partout, con tante iniziative fatte anche da Erone Comunicazioni. Abbiamo avuto Cristina D'Avena e poi adesso avremo lo spettacolo di Mascia e Orso, che è uno spettacolo a carattere internazionale e che si tiene per le nostre zone nel teatro comunale di Nocera, quindi siamo molto soddisfatti di questo circuito culturale che l'amministrazione ha rimesso in moto, aderendo anche ad iniziative regionali di prestigio come il Teatro Pubblico Campano, ma non solo quelle, tutta una serie di manifestazioni che nell'ambito della cultura fanno del comune di Nocera un punto di riferimento assoluto. Noi siamo convinti che anche la proposta di quest'anno, che segue un po' la scia delle scelte dell'amministrazione negli anni precedenti, siamo convinti che sarà confermato il successo di pubblico e di critica. Si tratta di un programma estremamente ricco, variegato, che incontrerà sicuramente i favori del pubblico e soprattutto anche i vari gusti, perché abbiamo un'offerta che va dal teatro scuola per gli alunni delle scuole, dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie, abbiamo spettacoli di danza, laboratori teatrali, spettacoli teatrali e poi il clou è la stagione teatrale che come diceva il sindaco vede compagnie di tutto di rilievo nazionale. Grazie